Quindi signor Gavelli, dopo tutte queste delusioni, i mondiali dell'undici, la finale dei campionati italiani, un'ultima raccoggiù dell'anno scorso, che cosa ti piacerebbe fare adesso? Grazie a tutti! Signor Gavelli? Signor Gavelli? No! Sono un bombe! Sono il 6, 9, 10, 10! E' il mio abbraccio! Mi sono avanti in mano! Che cazzo è? Ma che cazzo è? E' un urso! No, 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 è una cometa! No, no, no! Assistenete! 496! 2497! Sono Sgara! La vostra unica prima scelta! E' un bel figlio! Già loro a la frontier di Melos family fod hog? Che cazzo le sona a sa mère! Sono già cazzo con il mio States per um corpo aicso! Che cazzo è un vero di Cogna��! Tu cazzo le whale! La ladest ma还有, vantしac... Ciao! Sgara!